La votazione finale assegnata a questo prodotto di Aller è di 6 voti su 10. Risulta essere il più votato per questa categoria con 83 valutazioni. Questo è un prodotto sicuramente tra i migliori attualmente sul mercato e si propone come una delle migliori soluzioni del settore. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di Aller è di 6 voti su 10. Questa è la nostra scelta migliore. Le caratteristiche principali sono leggero, stile, ottimo rapporto qualità prezzo, livello del rumore, efficienza energetica. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. La valutazione finale assegnata a questo articolo di Tip Top Home è di 8 voti su un totale di 10. Risulta essere al momento il prodotto più regalato. Riteniamo questo prodotto un buon modello adatto alle esigenze di chi cerca qualcosa di semplice, ma allo stesso tempo efficiente. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo articolo di Kretzink ha riscontrato una valutazione di 4 su 10 totali. È il più esclusivo di questa selezione. Si presenta come una delle migliori soluzioni per questa tipologia di prodotto. È adatto alle esigenze di chi cerca prodotti con un buon rapporto qualità prezzo. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video.